Raduno del Blue Basket 1971 sponsorizzata Gruppo Mascio al Palla Facchetti di Treviglio. Con il presidente Stefano Mascio in prima fila agli ordini di coach Michele Carrea è cominciato quello che sarà il settimo campionato consecutivo per Treviglio in Serie A2. Si comincia a sudare, oggi è il primo giorno e c'è fermento, sono qua tutti pronti per scarpitare anche noi siamo entusiasti, emozionati a vedere questa squadra che parte da oggi. Primo giorno di scuola con un professore d'eccezione, coach Michele Carrea, che ha subito condiviso gli ideali del presidente. Sì, assolutamente sì, poi Michele è pronto e sa quello che vuole e sono sicuro che presto raggiungerà i primi risultati. Un programma di precampionato importante, però si guarda già anche alla Supercoppa, addirittura il primo appuntamento con Cantù, la squadra più blasonata che incontrerà mai Treviglio. Ottimo, siamo già pronti. E quali saranno invece le altre contendenti di Treviglio per la parte altra della graduatoria, si spera? Ma le contendenti alla fine saranno oltre a Cantù quelle dell'anno scorso. Noi comunque ce la metteremo tutta e giocheremo per vingere e giocheremo per salire. Grazie. Grazie.